Il tecnico della gioielleria di Bartoccini Perugia, Fabio Bovari. Allora, purtroppo una partita che si doveva giocare e non si è giocata, sappiamo benissimo quelli sono i motivi. Adesso tutto è rimandato al giudice di Lega, voi come società come vi orienterete in ogni caso? Dobbiamo attendere come Marzala quello che la Lega deciderà in merito a questa partita. Noi come Marzala eravamo venuti qui per disputare una gara che purtroppo per eventi legati a situazioni impreviste non si è potuta fare. I due arbitri hanno constatato l'inagibilità del campo e hanno certificato a referto quello che è avvenuto. Chiaramente lei aveva preparato la partita in una certa maniera, l'avevamo letto nelle ultime interviste, fondandosi anche sull'aspetto psicologico che sarebbe stato molto importante vista l'importanza della posta in palio. Assolutamente sì e credo che anche il collega dall'altra parte abbia fatto lo stesso, ma sarà un incontro che sarà rimandato, adesso non sappiamo a quale data o con quali esiti e vedremo quello che ci sarà da fare. Poi aspettiamo quello che è la sentenza del giudice di Lega, sicuramente noi avevamo preparato una partita e oggi non si è giocato. Grazie 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 Grazie